buonasera a tutti salve sono tiziano bellucci stasera è il nostro primo incontro stiamo facendo una prova perché prima abbiamo avuto una problematica diciamo di comunicazione ecco vediamo se adesso siamo riusciti a vedere un attimo solo vediamo un attimo se se funziona io sono io sto usando be live su vediamo un attimo se riusciamo a risolvere i problemi un attimo solo è buonasera ancora ecco vediamo un attimo ecco io penso che fosse riusciti a vedermi adesso ecco buonasera anna tutto bene mi riesce a vedere abbiamo avuto un problema prima perché in realtà probabilmente non si riusciva a incrociare ecco i fotogrammi ecco penso che adesso sia possibile cosa dici anna mi senti possiamo cominciare tutto bene tutto bene mi sento perfetto dicevo questo incontro che facciamo stasera scusate il ritardo ma purtroppo quando si vuole cominciare a fare qualcosa a volte ci sono delle problematiche tecniche in realtà io riuscivo a vedere quello che facevo però non veniva mostrato al pubblico comunque dicevo questi incontri cominciano questa sera e sono incontri che terremo fino a luglio una volta al mese e abbiamo questa opportunità ecco sono stato nominato docente dell'università lux lux l'università della conoscenza e una creazione di anna tamburini e grazie anche al circuito di focus 3.0 e terremo queste lezioni o queste pillole di antroposofia ecco l'antroposofia è una scienza che in qualche modo è stata creata da Rudolf Steiner Rudolf Steiner era un chiaroveggente che è vissuto circa 100 anni fa ma laureato in filosofia in storia e in scienze quindi anche una persona che aveva un'autorevolezza da un punto di vista basilare universitario però che aveva delle facoltà che erano veggenti e praticamente e tutta la sua vita la dedica per divulgare una conoscenza che sia in grado di mostrare che esiste un mondo invisibile e attraverso diciamo l'attivazione di centri di percezione superiore Rudolf Steiner nasce già con questi centri di percezione superiore ma si dedica oltre a portare le sue percezioni che tra le quali ciò che noi faremo è proprio frutto delle percezioni di Rudolf Steiner non è di cui presente Tiziano Bellucci che si inventa o immagina o mette in ballo qualcosa farina del suo sacco no Tiziano Bellucci riporta le percezioni che erano vigenti di Rudolf Steiner ecco non sono e non potremmo dire non sono riflessioni non sono filosofie sono osservazioni che Rudolf Steiner fa attraverso i suoi sensi spirituali in tutti questi incontri e all'interno della lux appunto dell'università della conoscenza abbiamo pensato di portare otto punti centrali otto colonne basilari diciamo dell'antroposofia e stasera cominciamo con la costituzione occulta dell'uomo cioè parliamo di come l'uomo è costituito da un punto di vista di essere fisico essere animico essere spirituale poi ci saranno tanti altri incontri ogni mese più o meno ogni secondo lunedì del mese ci sarà un calendario che ve lo mostrerà e parleremo di tematiche diverse parleremo della cosmologia dell'evoluzione del mondo da dove è provenuto questo universo parleremo dei misteri diciamo della del principio della fine parleremo della libertà del caso dell'eros della sessualità parleremo di tante cose cercando di collocarle secondo la visione antroposofica adesso io cerco di condividere io vi ringrazio ancora per la pazienza stasera quando si comincia qualcosa c'è sempre qualcosa che deve essere qualche modo mostrato ecco io adesso mi sono preparato delle immagini che vorrei appunto che anche voi vedeste e sono delle immagini che in qualche modo hanno a che fare con la costituzione occulta dell'uomo ecco dunque vediamo un attimo se riuscite a anche voi se penso che voi riuscite a vedere vedete la natura occulta dell'uomo è qualcosa che è conosciuta ma anche confusa e anche equivocata ecco quella che è la concezione antroposofica del mondo ci dirà da dove sono provenuti questi involucri che cosa sono e come l'uomo in qualche modo si manifesta sulla terra ecco allora la prima cosa che noi dobbiamo dire è questa è che l'uomo si può suddividere sia attraverso una modalità ternaria che quaternaria cioè l'uomo è sia composto di spirito anima e corpo e sia vedremo e anche quadri partito noi sappiamo che la parola spirito è una delle parole tanto usate ma meno conosciute tant'è vero che se io vi chiedessi che differenza c'è fra l'anima e lo spirito io penso che molti non saprebbero rispondere perché ci hanno come istruito e questo è accaduto dal 869 quindi circa 1200 anni fa è stato fatto un concilio in cui si è definito che l'uomo è costituito di corpo e di anima e ha delle qualità anche spirituali però si è perso completamente quella che è la concezione diciamo spirituale dell'uomo che è il nucleo in realtà senza questa concezione dell'uomo noi non siamo in grado di farci un'idea di cosa sono le vite ripetute e qual è lo scopo dell'uomo sulla terra se le leghiamo l'uomo a una vita soltanto in cui deve compiere un'evoluzione che lo catapulta e lo catapulterebbe nel regno dei cieli è quasi impossibile da pensare vedremo un attimo nel corso dei nostri incontri quanto sia necessario che l'uomo venga più volte e anzi venga in situazioni mondiali diverse in razze diverse in tempi diversi proprio per poter fare esperienze continuamente diverse ecco ecco questi corpi questi elementi spirito anima e corpo è qualcosa che l'uomo si ritrova addosso noi veniamo al mondo con queste corporeità non è qualcosa che noi abbiamo comprato abbiamo affittato no noi veniamo al mondo ereditando questi elementi che chiamiamo corpo cerchiamo un attimo di entrare un po in confidenza possiamo dire che il corpo è l'elemento materiale è quello che in realtà conosciamo meglio quello che è la chimica quello che la fisica quello che la medicina conosce meglio poi vi è una parte che viene chiamata anima che è quella che altrove viene chiamata anche psiche di cui si occupa la psicologia e poi un'altra ancora che si chiama spirito che è l'essenza quindi abbiamo il corpo abbiamo la persona il personalità e l'essenza noi potremmo dire ma che ne sappiamo noi di questa essenza vedrete che tutto l'incontro sarà per cercare di incontrare di capire che cos'è questa essenza il corpo è fisico l'anima è fatta di materia astrale e l'essenza è fatta di spirito andiamo a vedere adesso allora io cercherò di fare delle similitudini ovviamente perché sono quelle che aiutano di più quando si vuole presentare una data data circostanza ecco noi potremmo dire che il corpo è quell'elemento che in noi ci permette di accogliere delle percezioni se noi possiamo sapere qualcosa di noi stessi e del mondo è perché abbiamo degli organi sensori che ci permettono di osservare fuori e di creare appunto un mondo interiore se un individuo nascesse senza organi di senso non riuscirebbe a crearsi una rappresentazione dell'io cioè l'io noi lo possiamo creare proprio soltanto perché possiamo rapportarci fra un dentro e un fuori e questo fuori ce lo consegna la percezione del corpo ecco quello che invece concerne l'anima è quell'elemento che una volta ha avuto il dato ha avuto la percezione è in grado di giudicare di scegliere di selezionare e di utilizzare per i propri scopi la percezione quindi l'anima è quel qualcosa che dice mi piace non mi piace è bello è brutto è utile non è utile e quindi si ferma a un utilizzo del mondo per se stesso potremmo dire anche per natura egoistica noi potremmo dire che se guardiamo certi uomini molti uomini sono fatti di corpo e di anima e sembrano quasi non dotati di spirito perché lo spirito invece è qualcosa che ci mette in relazione nel mondo non solo per l'utilità che noi possiamo trarne ma per l'utilizzo ovviamente che possiamo trarre ma soprattutto per le leggi di cui è fatta e da dove è provenuta noi possiamo indagare attraverso l'intuizione portarci a chiedere che cos'è quella cosa un animale di fronte a una quercia non si chiede cos'è una quercia la vive l'uomo no vuole conoscere come è nata la quercia come si riproduce come viene collocata all'interno del sistema e quindi vuole conoscere le leggi vuole pensare l'universo ecco pensare l'universo qualcosa che proviene dallo spirito l'anima sente e il corpo vuole potremmo dire volontà sentimento e pensiero anche se non dobbiamo per forza pensare che lo spirito sia il pensiero diciamo che la manifestazione umana riesce a arrivare al culmine dell'espressione come potremmo dire quarto regno terrestre nel pensiero il pensiero è l'elemento in cui l'uomo massimamente riesce a esprimersi e sollevarsi al di là diciamo degli altri regni vediamo ancora dunque noi potremmo anche dire che l'uomo lo vediamo possiamo tripartirlo in corpo anima e spirito ma anche in uomo del sistema nervoso uomo del sistema circolatorio uomo del sistema respiratorio oppure possiamo pensarlo appunto come detto prima fatto di pensare sentire volere possiamo pensare che vive nel passato vive nel futuro e vive nel presente e che addirittura vive nello spazio lunghezza altezza e larghezza quindi vedete che ci sono tanti ambiti in cui questo 3 compare spesso siamo tripartiti ecco possiamo anche dire questo che l'elemento della bontà cioè quanto un uomo è buono cerca il bene e quindi è all'interno di una ricerca morale etica del mondo quello è l'elemento spirituale meno un uomo è buono potremmo dire e meno è morale etico e meno esprime lo spirito lo spirito si esprime nella qualità morale ed etica dell'individuo invece colui che cerca il cercatore il filosofo è colui che vuole spiegarsi il mondo e quindi è l'aspetto intelligente dell'anima dell'uomo quindi la verità concerne l'anima così come la bontà concerne lo spirito e più io sono buono più esprimo il mio spirito più sono intelligente più esprimo l'anima vedete che l'intelligenza in questo caso non ha a che fare con lo spirito è più la bontà e la bellezza invece qualcosa che mi dà il corpo io posso percepire la bellezza perché le emozioni che mi vengono attraverso i sensi mi mettono di fronte al mondo e mi consentono di poter godere del mondo bontà verità e bellezza spirito anima e corpo ecco adesso entriamo nell'elemento quaternale in cui invece più nello specifico vediamo l'uomo terrestre adesso abbiamo parlato dell'uomo in senso come cosmico anche diciamo come essere divino qua entriamo nell'uomo fisico l'uomo è fatto di un corpo fisico un corpo eterico che anche il corpo vitale il corpo della vita corpo della salute del benessere del malessere il corpo astrale che è il corpo della coscienza e il corpo dell'io ecco vediamo ancora e allora il corpo fisico noi dobbiamo pensarlo similare a quello che è il mondo minerale quindi il nostro corpo fisico è costituito di elementi che noi troviamo nella natura che sono anche nel mondo degli elementi minerali quindi c'è un elemento non dico di pietra ma gli stessi ogni elemento che c'è nel nostro corpo noi lo troviamo anche fuori nel mondo soprattutto nel regno vegetale e nel regno minerale anche i vegetali sono fatti di minerali anche gli animali sono fatti di vegetali tutti i nostri elementi carbonio ossigeno magnesio provengono da un mondo che viene chiamato mondo minerale degli elementi minerali e in questo mondo non vi è possibilità di sapere di sé la pietra non si domanda chi è non sa di esistere esiste ma non sa di essere poi abbiamo un altro elemento che noi chiamiamo corpo vitale che invece lo possiamo associare alle forze che ci sono nelle piante quindi qua abbiamo la vita in noi come nelle piante voi sapete che le piante dormono le piante non parlano non hanno coscienza di sé dormono mentre il minerale è in uno stato di trance potremmo dire la pianta dorme e quindi il nostro corpo vitale ciò che ci rende possibile la vita nel corpo fisico è a qualche modo simile a ciò che vive nelle piante poi c'è un elemento che noi chiamiamo corpo animico o corpo astrale che invece similare a ciò che vive nell'animale l'animale ha la possibilità a differenza della pietra e della pianta di sapere di sé e quindi è consapevole di esistere allora non si pone il problema dell'essere l'animale non fa una conferenza nel bosco dicendo ma che cosa sono i daini i daini dove sono prevenuti qual è lo scopo del mondo dei daini non fanno questo anche i gatti sui tetti non fanno conferenze di filosofia perché non sono interessati a conoscere se stessi ma vivono soltanto il presente assoluto si potrebbe dire che gli animali non vivono né nel passato né nel futuro sono sempre attaccati al presente e sono soltanto rivolti all'essere quindi alla consapevolezza di esistere nel quarto livello abbiamo il corpo dell'io che questo esiste soltanto in noi umani in cui abbiamo quella forza che noi chiamiamo autocoscienza che ci rende possibile di indagare le cause della nostra esistenza noi possiamo dentro di noi cercare i motivi del nostro agire del nostro desiderio del nostro anelito cosa che invece tutti gli altri terreni non possono fare non lo possono fare gli animali non lo possono fare i vegetali non lo possono fare le pietre l'uomo è l'unico che si può mettere dei problemi dei pensieri nel senso può indagare sulla natura di se stesso ecco spero che fin qua mi riusciate a seguire vediamo un attimo è allora noi possiamo vedere le funzioni del nostro spirito del nostro spirito tramite quattro elementi ecco facciamo una cosa di questo tipo noi possiamo pensare che in realtà vi è qualcosa che è legato alla volontà qualcosa che è legato al sentimento qualcosa che è legato all'intelligenza e qualcosa che è legato alla coscienza di sé è come se la volontà avesse un'affinità con il calore c'è la nostra forza di volontà di fare è legata al fuoco invece il nostro la capacità di pensare è legata alla luce al pensiero all'aria e la nostro sentimento l'emotività è legata all'acqua la coscienza di sé è invece legata alla terra quindi questi quattro elementi che sono fuoco aria acqua e terra hanno qualcosa a che fare con qualcosa che noi viviamo come volontà come intelligenza come sentimento e come coscienza di sé ecco andiamo a vedere ancora noi potremmo anche dire per peggiorare la cosa per complicarla che abbiamo una parte corporea che è quella rossa che noi chiamiamo corpo fisico corpo eterico corpo senziente una cor una parte animica che chiamiamo anima senziente anima nazionale anima cosciente e una parte spirituale che chiamiamo se spirituale spirito vitale uomo spirito adesso cercheremo di prendere in esame non vi preoccupate non è che diciamo così per dire ecco io ho fatto sto facendo una panoramica adesso ecco allora l'antroposofia ci dice l'uomo è fatto soprattutto si può suddividere in tre in quattro in sette in nove qui in questa sede al momento noi ne contempliamo sette fasi corpo fisico il corpo eterico il corpo senziente collegato all'anima senziente e qui parliamo di corpo astrale inferiore l'anima nazionale che parliamo di corpo dell'io o astrale superiore poi abbiamo un'anima cosciente congiunta con un sé spirituale uno spirito vitale con è un uomo spirito sono tutte cose che so che faranno confusione perché la nomenclatura è diversa per ogni tradizione i teosofi dicono una cosa i buddhisti ne dicono un altro gli induisti un'altra ecco quindi c'è il rischio di confondersi è molto importante cercare di comprendere quello a cui noi facciamo riferimento perché così possiamo capirci meglio io spero stasera attraverso questa lezione diciamo nel alla lux università della conoscenza di potere portarvi un contributo per orientarvi nel mondo diciamo della dei corpi dell'uomo ecco allora analizziamo prima corpo fisico che in realtà noi potremmo dire la cosa che conosciamo meglio è il muoversi della materia nello spazio potremmo dire l'uomo fatto di sale l'uomo fatto di pietra l'uomo salino ecco potremmo dire il corpo materiale noi non dobbiamo pensare che sia l'artefice della vita purtroppo noi viviamo in un tempo in cui ci dicono che la vita è suscitata dalle funzioni celebrali e proprio perché c'è un cervello e quando si interrompe l'attività cerebrale si dice che l'uomo è morto non so se sapete che quando un uomo va all'ospedale se gli batte il cuore ma l'encefalogramma piatto è morto e quindi si possono prelevare gli organi ma se non ha più il cuore che batte non si possono più prelevare gli organi e praticamente un uomo si reputa che sia vivo o morto quando il cervello non ha attività elettrica quindi vuol dire che si pensa che sia il cervello che qualche modo crei la vita cioè la vita esiste in funzione del cervello non ci si interroga del perché il cuore funziona lo stesso a volte batte lo stesso anche se il cervello è piatto per esempio non ci si chiede il perché le piante e pur non avendo un cervello sono vive no se voi guardate una pianta non ce l'ha il cervello eppure ce l'ha la vita è molto vita una grande vita quindi il cervello non è il fautore il creatore della vita ma vedremo è lo specchio riflettente di questo ci sono delle leggi fisiche nel corpo fisico che tendono a dissolversi se noi prendiamo un corpo fisico e lo lasciamo a sedi togliamo via il corpo eterico e l'anima si disgrega va torna a diventare polvere noi potremmo dire che le forze che ci sono nel corpo eterico hanno un'affinità addirittura con tutto ciò che è architettonico noi quando vediamo un elemento architettonico fuori in realtà vediamo un tempio e questo tempio si riflette in noi nel tempio del nostro corpo il cervello fisico è un'analogia col computer è uno specchio non è ciò che crea la vita e neppure ciò che crea la coscienza steiner fa questo esempio se io sono davanti a uno specchio e guardo il mio viso nello specchio non posso pensare che sia lo specchio che stia creando la mia faccia la mia faccia la crea lo specchio no io ce l'ho già la faccia vado davanti allo specchio lo specchio me la mostra ecco la stessa cosa è nei confronti del cervello i pensieri non vengono creati dal cervello ma vengono riflessi e come se in realtà i pensieri esistono di per sé ma possono mostrarsi prendere una forma ed esistere solo se si specchiano nel cervello cioè se noi non avessimo un cervello come nel caso dei defunti non è che i defunti non possono pensare non possono riflettere il pensiero nel cervello e quindi non hanno quella coscienza che abbiamo noi quando pensiamo sulla terra facciamo una similitudine col sogno se voi fate caso quando fate i sogni non è che siete proprio uguali a quando siete sulla terra nel senso che non usate lo stessa coscienza e lo stesso modo di pensare per esempio non è che durante il sogno vi siete mai chiesti perché non guardate mai l'orologio perché non vi chiedete mai quanti anni avete che è la vostra compagna che vostro marito che lavoro fate perché nel sogno tutto non è autocosciente perché nel sogno non c'è una connessione col cervello come quando la veglia quando siamo nella veglia steiner dice che nel sonno l'anima esce dal corpo e quindi ciò che accade nel sogno non è riflesso dall'attività cerebrale e quindi la coscienza pur essendoci lo stesso perché i chiaroveggenti ci dicono che anche il defunto è cosciente quando è fuori dal corpo però pensa in modo diverso gli manca l'autocoscienza la capacità di essere autoresponsabile di poter gestire a suo piacimento le sue percezioni dei suoi pensieri nel sogno si vive trasportati dal sogno di conseguenza si fanno associazioni ma non si può avere un pensiero autonomo tranne in rari casi in cui vi è un sonno lucido ma questa è un altro è un'altra cosa ci sono 12 forze zodiacali che hanno costruito il nostro corpo non a caso i pesci hanno anche a fare con i piedi il capecorno l'acquario il toro ogni uno di questi segni ha contribuito a creare il nostro corpo fisico vedremo quando parleremo dell'evoluzione della terra quanto è importante conoscere tutto questo quanto è meraviglioso ecco il cosmo intorno a noi le stesse quattro costellazioni che noi vediamo citate nei vangeli cioè il leone il toro l'acquario l'uomo e l'aquila che corrisponderebbe all'antico scorpio scorpione sono quattro costellazioni che sono alla base della forma umana c'è la forma umana esiste soprattutto perché queste quattro proprio che si incontrano e si incrociano oppostamente potremmo dire che il toro è opposto lo scorpione l'acquario opposto al leone formano una croce questa croce è quella che ha creato quella forma umana io ve l'anticipo soltanto queste cose perché ne tratteremo poi nell'evoluzione planetaria vi dicevo siccome io vorrei portarvi a un'esperienza io stesso vorrei conseguire questa capacità di rudostare di poter percepire realmente il mondo spirituale vorrei portarvi delle similitudini steiner dice che per poter avere coscienza di quello che è la forza del corpo fisico cioè le forze archetipiche di architettura che vivono nel corpo fisico si possono sperimentare guardando delle forme se noi guardiamo per esempio delle forme come queste ci sopravviene un sentimento ecco noi dobbiamo cercare di sentire questo sentimento in noi perché in realtà è della stessa natura delle forze del nostro corpo fisico provate a concentrare vedete queste forze subito vi proiettano in una forma architettonica in cui voi stessi vivete voi siete un tempio e il vostro tempio l'architetto l'ingegnere che crea la cattedrale che crea il tempio lo emette fuori è una capacità che noi abbiamo già c'è questa forza queste immagini che noi vediamo risuonano sin nelle nostre ossa all'interno delle nostre ossa e vi sono queste forze configuranti questa meraviglia ecco in realtà il tempio la cattedrale qualsiasi anche qualsiasi edificio rappresenta il corpo fisico quando si sogna il posto in cui ci si trova spesso è il nostro corpo fisico facciamo l'esperienza di vivere dentro il corpo fisico ecco casomai provate a notare quando siete in meditazione questa forza del corpo fisico che è dentro l'architettura ecco questo è il geteano che la scienza dello spirito di rudo steiner e con l'università della scienza dello spirito di dornac ecco andiamo adesso nel corpo eterico il secondo corpo potremmo dire che il secondo corpo è l'uomo liquido tutto ciò che noi si muove nei liquidi linfatici in tutto ciò che è scorrevo dentro il corpo ha a che fare con il corpo eterico che cos'è il corpo eterico è il responsabile della vita della nostra salute il fluire ciclico e ritmico della corrente del tempo in noi non a caso appunto noi invecchiamo perché noi fluisce questo tempo che è elemento proprio eterico ecco il corpo eterico viene raffigurato con questa forma cinque ste cinque punte e ci sono delle forze che partono e si possono anche meditare per poter rafforzare queste forze adesso io ovviamente stasera non posso entrare nei particolari perché questi seminari che io tengo sono seminari che durano una giornata intera in cui si parla di questo argomento per un giorno intero io oggi ho come la funzione di introdurvi di farvi prendere confidenza ecco comunque in ogni caso voi potete rivedere questo filmato e casomai firmarmi e leggere casomai le nomenclature in modo più dettagliato dunque questo corpo eterico cosa fa struttura e mantiene in ordine le forze del corpo fisico che sennò si si sgretolano regola i sette processi vitali nutrizione respirazione riproduzione sono regolati da questo corpo vitale è il supporto del pensare dei ricordi noi possiamo pensare e possiamo avere una memoria perché il corpo eterico è l'involucro in cui vanno a finire tutti i ricordi non vanno a finire solo nel cervello ma in tutto il corpo ci sono i ricordi ci sono ricordi del cuore del polmone ricordi del fegrato ogni organo ha i suoi ricordi inoltre il corpo eterico esprime il temperamento dell'individuo come siamo fatti sanguinici collerici flemmatici malinconici e se vogliamo fare l'esperienza invece del corpo eterico noi dobbiamo pensare che nella forma scultore nella scultura nella forma dei muscoli abbiamo la vita eterica che lo scultore è capace di trasmettere quando crea una forma l'eterico è fatto di quattro eteri le cre del calore lettere del suono chimico lettere della luce e lettere della vita ripeto sono da approfondire queste cose sono stimoli una cosa importante che ci tengo a dirlo è anche il fatto che esiste una polarità capovolta all'interno di noi allora ciò che si vede fuori è l'aspetto del che dal genere all'uomo maschile o femminile ma all'interno vi è un capovolgimento noi potremmo dire che le forze del toro attraverso l'eraggiamento della luna creano all'interno del corpo eterico un corpo di polarità femminile e questo corpo femminile va poi a creare un corpo fisico maschile quindi ogni uomo che ha l'elemento del toro quindi della bovinità ha dentro di sé una femmina dal punto di vista eterico e questo elemento eterico femminile poi lo mostra come maschile e la donna al contrario invece ha le forze del leone che attraverso il sole creano un corpo eterico maschile all'interno quindi ogni donna dentro è maschile e questa mascolinità crea poi l'elemento fisico femminile quindi vedete che maschile e femminile in realtà sono interiori o esteriori ecco i colori dell'aura eterica perché il chiaroveggente distingue i colori della vita dai colori della coscienza i colori astrali dai colori eterici di solito l'uomo sano ha un'aura che è simile al colore dell'albero del pesco un chiaro un rosa molto tenue bianco bianco tenue bianco tenue rosa ecco la parte eterica della testa di solito è violetto azzurrognala che va verso il verde e la parte mediana invece giallo rossiccia invece la parte inferiore tende verso il rosso qua prima abbiamo visto che il corpo fisico lo possiamo sperimentare attraverso le forze dell'architettura il corpo eterico lo possiamo sperimentare guardando le sculture quando noi guardiamo una scultura in realtà vediamo quello che il lo scultore è capace di tradurre come impulsi del suo corpo eterico una volta nell'antichità non si usavano i modelli umani per riprodurre una forma umana no lo scultore riproduceva le forze che vivevano dentro a lui e le immetteva direttamente nella scultura quindi quando noi vediamo la forma scultorea vediamo le forze vitali le forze che dentro ci danno la vita che ci danno la salute dentro le forze diciamo queste forme scultore vi è la forza della vita che viene e si può cogliere quando si osserva una scultura quando guardiamo l'architettura sentiamo le forze del nostro corpo fisico quando guardiamo la scultura vediamo le forze del corpo eterico va bene adesso andiamo in un terzo elemento che invece è quello che noi chiamiamo il corpo astrale corpo animico il corpo senziente che anche l'uomo d'aria ecco qui possiamo come definirlo dicendo è l'afferrarsi nell'irraggiare della luce e della tenebra è il sentimento di sé ciò che noi chiamavamo anche quello che gli animali percepiscono la possibilità di percepirsi all'interno di un corpo e proprio di un portatore di corpo astrale di anima la pianta non sa di sé e la pietra non sa di sé l'animale sa di sé e l'uomo sa oltre di sé potremmo dire ecco vediamo un attimo questo corpo astrale ecco che cosa adesso vedrete che c'è un corpo astrale inferiore che è più rivolto verso il corpo è un corpo astrale superiore che invece rifiore a tutto quello che noi chiameremo poi l'elemento dello spirito rivediamo corpo fisico è la base fisica minerale priva di consapevolezza corpo vitale e le forze della vita vegetale che sono in stato di sonno e il corpo animico è la possibilità di sapere di essere di esistere ecco questo corpo senziente questo corpo che sa che sente questo corpo astrale trasforma quello che è vivente in sostanza capace di sentire sostanza per modo di dire in forma energetica che è capace di sentire inoltre rispetto alla pianta dalla possibilità di spostarsi voi sapete che la pianta rimane sempre ferma lì ma il corpo chi ha un corpo animico senziente un corpo astrale riesce a spostare a cambiare di posto e è importante che questo corpo astrale di cui vi sto parlando non dovete pensare che una vera e propria anima e ciò attraverso cui noi possiamo avere delle sensazioni e delle emozioni oggettive non dei sentimenti quindi questo corpo astrale inferiore ci dà la possibilità per esempio di sentire che una cosa è ruvida che una cosa è morbida che una cosa è salata che una cosa è dolce la cosa ha un certo suono a un certo colore però non interferì non inserisce non dà la possibilità di giudicare quando l'animale ha una percezione non si forma un giudizio intorno alla percezione per poter formare un giudizio sulla percezione bisogna avere qualcosa in più che non è solo questo corpo ma è anche l'anima l'anima ce l'ha anche l'animale però un tipo di anima che non è individuale è un'anima che appartiene a tutta la specie quindi potremmo dire che tutti gli animali hanno uno stesso spirito invece gli uomini ognuno ha uno spirito di per sé quindi uno spirito indipendente tutti i leoni hanno uno spirito solo che sovraintende tutti e invece ogni uomo ha uno spirito di per sé questo ci porterebbe molto lontano chiederci il perché un giorno ne parleremo perché siamo qui anche per questo quindi il corpo animico senziente è quella forza che ci dà le percezioni però vive solo il presente una volta che è finita l'esperienza dei sensi non è capace di trattenerle di darle durata per esempio gli animali hanno molta più memoria dell'uomo però non hanno la capacità di poter richiamare in modo consapevole i propri ricordi gli animali quando sono a cuccia draiati non è che meditano sul loro passato ama che bello quando ha incontrato il mio padrone che mi ha portato via dal canile non fa questi pensieri no l'animale vive solo il presente e si regola di conseguenza a fare pensieri solo pensieri legate immagini che gli vengono incontro nel presente se vede qualcosa sicuramente discatena un ricordo del passato e quindi si ricorda di averlo vissuto ma lui autonomamente non può con la sua volontà andare a trovare la chiave mnemonica per poter andare nei cassetti dei suoi ricordi e potremmo dire che mentre l'uomo può a comando andare a cercare ricordi l'animale può farlo soltanto se da fuori gli viene uno stimolo quindi l'animale non è che è meno a meno memoria dell'uomo non pensiamo questo a non ha la capacità di chiamare richiamare in modo indipendente cosciente ricordi così come il corpo fisico si sperimenta con l'architettura e corpo eterico con la scultura il corpo animico si sperimenta con la pittura ogni volta che noi vediamo un dipinto questa immagine che ci danno i colori e le forme è diverso da una scultura è diverso da un'architettura sentiamo un impatto diverso e quindi quello che noi sentiamo è già un sentimento di sé vedete come subito viene trasmesso un sentimento di sé c'è qualcosa di intimo che entra dentro ecco sono tutte immagini che ci parlano del che ci entrano dentro cosa che non era così prima la pittura entra dentro l'anima ci fa sentire un un'anima ecco è come se il colore e ci facesse rendere parte del mondo e ci scopriamo abitanti di un mondo interiore dove fuori viene un mondo esteriore ecco ci sono chiarove genti che vedono l'aura astrale e queste sono un po le immagini i colori che si hanno quando si arrabbia paura disgusto tristezza è come se ogni adesso qui è molto umanizzata steiner non dice che le aure si vedono proprio a forma umana si vedono in realtà degli irraggiamenti indefiniti che partono come forze di calore e soprattutto forze di luce irradianti e che vanno oltre la forma umana possono anche arrivare oltre un metro metro e mezzo lungo la forma umana qui hanno fatto questa immagine che non è proprio caratterizzante però interessante i colori che vengono dati possono essere di riferimento ecco se qualcuno vuole farci caso qua ci sono i colori psichici adesso io non ve li elenco tutti perché casomai voi fermate il video vi andate a vedere a cosa corrisponde il nero il grigio il marrone quando c'è un colore che prevale dentro un'aura c'è questa tendenza anche che la caratterizza l'uomo abbiamo visto che è fatto di corpo fisico di corpo eterico di corpo animico e che cos'è e chi è l'io perché noi ce l'abbiamo l'io continuamente non facciamo altro che dire io ho fame io sono io faccio io voglio ma di questi tre corpi l'io non è cioè l'io non è il corpo fisico l'io non è il corpo eterico e l'io non è il corpo animico noi non possiamo dire che noi siamo la nostra salute o noi siamo i nostri elementi minerali e tantomeno che siamo i nostri desideri addirittura non siamo i nostri pensieri noi creiamo tutto questo ma l'artefice di tutto questo è qualcosa di superiore vediamo se riusciamo ad avvicinarci piano piano anche qua è un assunto che è per vedere appunto la base minerale vegetale animale umana andando verso l'alto come vi ho detto prima vi è una parte inferiore nell'uomo che è la sua personalità che noi chiamiamo anche ego è la parte che massimamente più vicina all'animale fatta di bisogni e istinti egoistici ecco gli individui che tirano i carelli della spesa e vivono soltanto per quello vivono soltanto di necessità e di bisogni fisici sono individui che hanno un corpo astrale inferiore più sviluppato e quindi hanno un ego più pronunciato ecco bene è un'altra parte superiore che viene chiamata e corpo astrale superiore di cui non sappiamo molto che ci porta al di là dei bisogni addirittura ci fa disassuefare dai bisogni e che anche capace di avere dei sentimenti altruistici ecco questa parte è il corpo astrale superiore che chiamiamo io io ve lo racconto pian piano perché la cosa è un po più complessa ora le anime inferiori o individuali la personalità leggo adesso noi ci occupiamo della prima parte di quello che vi ho detto la parte inferiore e qua cominciamo a entrare nel mondo del giudizio e dell'egoismo del me io sono io sono quando cominciamo a dire io io faccio io sono è il me che parla quindi leggo adesso poi casomai sicuramente e dopo vediamo anche dopo nella parte finale anche le domande se volete segnarvele poi dopo le le vado un attimo a leggere allora noi dobbiamo pensare che se ricordate che io vi ho parlato che siamo fatti di corpo fisico di corpo eterico e corpo astrale e di tre anime sono tre livelli di anime potremmo dire tre livelli di personalità persona in greco vuol dire maschera pensate che che cosa particolare abbiamo una personalità dentro di noi in ogni vita che ci mostra con una maschera ecco la parte più bassa di queste tre anime di questo ego si chiama anime essenziente vive soltanto di desideri di passioni poi c'è un'altra anima che già superiore che viene chiamata anche corpo mentale in altri ambiti teosofici per esempio o corpo dell'io che invece si rivolge a dei desideri un po più superiori e in anima cosciente invece si dirige verso potremmo dire qualcosa di assolutamente superiore è come se vivesse soltanto per l'assoluto vediamo quindi ci sono tutte cose che io non riesco a soffermarmi perché sono anche molto dettagliate steiner queste cose ve le dà veramente come una scienza dice che l'anima è quella parte del corpo astrale che in qualche modo vive soltanto di bramme di passioni l'anima razionale è qualcosa che ci fa lavorare ci fa fare filosofia quindi ci fa chiedere qualcosa che va al di là delle passioni l'anima cosciente è invece la capacità di integra di indagare i segreti superiori ecco andiamo oltre la filosofia andiamo verso il mistero ecco ecco l'anima senziente l'anima che la maggior parte dei popoli latini potremmo dire del sud del mondo ha ed è massimamente un'anima che giudica che gode e ha sentimenti soggettivi ecco lei questa anima ha cominciato a generarsi nell'umanità perché non è che l'umanità dovete pensare che all'improvviso è arrivata dotata di anima vedremo che nel prossimo incontro prima viene creato il corpo fisico corpo eterico corpo astrale poi vengono a crearsi le anime in aggiunta e questa anima senziente comincia a esistere nel 2900 avanti cristo sono date che da steiner e da lì in poi potremmo dire nei tempi degli egizi l'uomo comincia ad avere una vita autonoma completamente egoista l'anima senziente è l'attività che corrisponde al fatto di avere sensazioni e di avere anche memoria è il mondo interiore emozioni impulsi istinti passioni tutto ciò che il grandissimo innamoramento la gioia del grandissimo godere dell'namoramento è dell'anima senziente non è dell'anima cosciente l'anima senziente vive di passioni che utilizza solo per proprio vantaggio anche se amare potrebbe sembrare una cosa invece altruistica ci sono molte passioni che sono da ricondurre all'anima senziente l'anima senziente vive collegata con le percezioni del corpo abbiamo visto che il corpo senziente è collegato con l'anima senziente lo chiamiamo corpo assale inferiore l'anima razionale che adesso andremo a vedere con la cosciente è invece il corpo astrale superiore ecco l'anima razionale si stacca un po dal corpo ed è quella parte di noi che ricerca il vero e il giusto è l'idealismo è la capacità si di sentirsi un io ma oltre le parti per esempio quando si va in un tribunale non si giudicano le persone se li stanno simpatiche o antipatiche noi con l'anima senziente non guardiamo alla giustizia la giustizia nostra mi piace non mi piace nell'anima razionale dice no non mi piace però tu hai delle qualità che io posso osservare al di là dei miei giudizi e quindi l'anima razionale è oggettiva ha una capacità di distaccarsi dal piacere e dispiacere e di poter farsi un'opinione che vada al di là delle consuetudini delle abitudini ecco l'anima razionale comincia a creare essere a manifestarsi nel mondo ai tempi dei greci nel settecento avanti cristo è come se in quel momento nasce infatti la filosofia e sappiamo che grandi filosofi si manifestano proprio nel settecento avanti cristo l'uomo non tutta l'umanità una piccolissima parte dell'umanità comincia a interessarsi alla conoscenza e l'arto che chiede la conoscenza al di là dei propri bisogni delle proprie utilizzi l'anima cosciente e questo è difficile da classificare perché non è più io ma è l'io in me è l'anima che ha un'intuizione e si rende conto di non essere il corpo di non essere la vita di non essere la sensazione di non essere nulla che ha a che fare con i suoi desideri neanche con le sue idee più grandi ma è qualcosa oltre è uno strumento al servizio di una forza che non si manifesta quasi mai che noi chiamiamo io adesso vediamo se lo riusciamo a incontrare l'anima cosciente è cosciente di essere uno strumento dell'io della parte spirituale dell'uomo l'anima cosciente anche l'anima che è capace veramente di amare oltre che ovviamente ricercare le capacità dell'anima razionale che ricerca gli enigmi del mondo ha la consapevolezza di sentirsi uno strumento spirituale quindi ha un amore e un potere di dedizione ma anche di autoaffermazione e questa compare soltanto dal 1400 in poi al 1400 l'uomo comincia a sentire che in lui vi è un elemento che vuole servire il divino nell'uomo non dobbiamo pensare sempre che per forza dobbiamo collogarci con un padre e con un dio esterno questo padre esterno ha a che fare con qualcosa che è un figlio interno la parte spirituale che noi chiamiamo io è della stessa natura di dio e quando noi ci rapportiamo con il nostro divino è la parte di dio che noi si utilizza i nostri strumenti è come se esistesse realmente una parte di dio che opera attraverso il singolo uomo ma il singolo uomo non lo sa noi crediamo di stare operando noi invece no c'è qualcosa che attraverso di noi vive la vita e vorrebbe farlo sempre più coscientemente ma non gli diamo mai spazio non gli diamo mai la possibilità di essere veramente lui lui ci dà le intuizioni ci dà le sicurezze ci fa sentire forti ma noi continuiamo a dire e godinare io a un'altra cosa io ai miei bisogni alle mie necessità a le mie comodità quando si fa uno scatto e si diventa un'anima cosciente si scopre che dentro di sé vi è qualcosa di grandioso che è realmente il motore di tutto l'universo di tutto l'essere umano ecco dunque vediamo un attimo se riusciamo a ecco dicevo l'anima cosciente è quindi quella parte in noi che riflette lo spirito è ovvio che è un'anima che sente che esiste in sé qualcosa di più grande ed è pronta anche a questo sacrificio queste immagini dell'anima cosciente noi la vedremo dopo sulla croce noi potremmo dire che l'anima senziente attraverso l'anima senziente l'uomo desidera e brama le cose egoismo attraverso l'anima razionale l'uomo ha bisogno della filosofia e della religione e attraverso l'anima cosciente l'uomo vuole una scienza spirituale che gli consegni i suoi scopi nell'universo perché esiste l'uomo cosa è il nostro ruolo dove dobbiamo arrivare a compiere qual è la destinazione fina della terra il pianeta terra che cosa deve fare e la gerarchia umana cosa deve fare questo è l'anima cosciente è un'anima che è chiamata proprio a essere cosciente in questo periodo più che mai ecco ecco qui abbiamo una panoramica se ci fate una caso vedete corpo fisico minerale sulla sinistra in basso il corpo vitale corpo eterico se volete poi delle fermate queste immagini e ve le analizzate meglio io sono già le 22 30 non posso entrare anche perché devo ancora dire la cosa più importante che vorrei dirvi ecco questi ci sono altri schemi che io ho inserito ma non posso adesso stare che la scienza dello spirito è veramente enorme stai nella tenuto circa 6.000 conferenze in tutta la 6.000 con 6 0 0 0 tutta la sua vita per poter portare questa scienza dello spirito quindi è veramente una scienza una super scienza una super scienza ci vuole tanto tempo per studiare per dedicare ma alla fine da veramente dei risultati interiori che possono veramente portare a una fiducia superiore dell'esistenza del mondo spirituale è una conquista non della fede ma è una conquista della conoscenza è una fede che nasce dalla conoscenza questi sono altri schemi che se volete ve li potete guardare sono tutti cose che ho disegnato la lavagna quando faccio seminario e li ho riportati ecco ci sono degli elementi che noi chiamiamo lucifero e arima nella scienza dello spirito sono due forze che nel mondo ordinario vengono visti come i diavoli ma in realtà sono due forze universali che abitano dentro e fuori dell'uomo servono proprio per creare dei contrasti degli ostacoli sono una sorta di peso che l'uomo deve portare e incontrare come prova per poter migliorare se stesso se non vi fossero lucifero e rimane non ci sarebbe l'evoluzione sono come i motori dell'evoluzione parleremo anche di loro e vedrete sarà molto interessante prendere confidenza con questi due esseri ecco dentro di noi prima di arrivare all'io c'è un subconscio che viene chiamato anche guardiano della soglia c'è un elemento di cui non sappiamo nulla che spesso è la contraddizione noi possiamo per esempio odiare perfettamente una cosa una persona perché in realtà la desideriamo tantissimo però nel nostro subconscio tutti questi fatti vengono come capovolti viviamo una realtà subita che si presenta come l'esatto opposto ecco questo viene chiamato subconscio o guardiano della soglia anche qui non ci si può fermare ne parleremo prometto e arriviamo adesso all'io quello che sta parlando ora non è l'io di tiziano ma è l'ego di tiziano con tutte le sue imperfezioni con tutte le sue aspirazioni le sue buone e cattive cose ma non è l'io che cos'è l'io di tiziano cos'è l'io di maria di daniela di cristina chi è l'io noi potremmo dire che l'io è qualcosa che si affaccia sul nostro cervello sulla nostra anima ma non riesce a vedersi c'è uno specchio che viene annebbiato dagli elementi luciferici l'elemento arimanico quindi c'è un filtro che si frappone che gli dà interferenza tutta la lotta dell'uomo e cercare di potersi specchiare in uno specchio ben pulito in cui non ci siano interferenze né luciferiche né arimaniche l'essere dell'io è l'essenza è lo spirito ecco che cos'è lo spirito fino adesso non abbiamo parlato di spirito quindi sappiate che quando vi chiedono che cos'è lo spirito lo spirito non è niente delle cose di cui abbiamo parlato finora che cos'è lo spirito che cos'è l'essenza vi faccio un esempio molto semplice quando voi sentite un profumo un'essenza non per forza voi dovete collegarvi a un'immagine a un nome a una pianta no spesso un'essenza un profumo è privo di forma ecco l'essenza è la vostra divinità che non ha una forma la forma ce l'ha il vostro corpo ma l'io non è il vostro corpo questa essenza pervade il vostro essere lo illumina gli dà la vita gli dà tutto quello che prima noi abbiamo parlato in realtà proviene dall'io c'è l'io è questa forza nell'uomo che ci permette di avere un corpo fisico di avere un corpo eterico di avere un'anima tutti questi elementi credono di essere loro l'io invece il vero io l'artefice della vita della coscienza è l'io il problema adesso che noi siamo fermi ancora all'ego diciamo continuamente io all'ego l'io i nostri pensieri i nostri sentimenti non riusciremmo dire io veramente a questa forza voi direte ma come accidenti faccio io a dire io questa forza è molto semplice io devo arrivare a superare la mia umanità cioè finché io rimango uomo uso l'intelletto i sentimenti come mi sono dati dalla nascita io non conoscerò mai non avrò mai l'esperienza del mio io del mio spirito per poter incontrare il mio spirito io devo arrivare a identificarmi con quella coscienza che non è dentro al corpo ma vive nel cosmo so che è difficile pensare perché che cosa vuol dire identificarmi con la coscienza del cosmo vuol dire sentirmi parte dell'unità del mondo questa unità in realtà esiste già cioè non c'è un essere separato nel mondo tranne gli uomini che credono di esserlo ma quando si diventa uno spirito ci si rende conto che la separazione è solo data dall'illusione di essere in un corpo proprio perché siamo in un corpo non sentiamo che l'universo è uno c'è questo grande mistero dell'uno dell'io di dio che è il mestiere dell'uno non c'è un essere umano non c'è un animale non c'è una pianta separato tutto è un'unità ma per un mistero che è troppo grande per essere comunicato in una sera noi dobbiamo credere che tutto sia separato che tu sei di che l'altro è qua che la luna è la che il fiore la mentre tutto è un'unità anche gli amanti si baciano si abbracciano vogliono diventare uno ma in realtà lo sono già noi siamo già uno nello spirito non abbiamo perduto la consapevolezza di esserlo tutti vogliono diventare uno ma nessuno ce lo fa perché non ce la fa perché continuiamo a essere molti siamo essere io uomini quando si diventa coscienti di questa realtà e la si sperimenta per sperimentarla bisogna ovviamente fare delle cose non accade da sé vivere soprattutto allora si assapora che cosa vuole dire essere un io potremmo dire che l'io è il grande assente noi adesso abbiamo parlato di tutto tranne che dell'io noi diciamo io continuamente ma l'io non c'è mai non riesce mai a esserci non riesce mai a entrare nella dimensione terrestre e a dire io a se stesso c'è tutto quello che c'è in noi dice io tranne il vero io e il vero io in realtà è una scintilla divina che vorrebbe fare l'esperienza umana ma essere consapevole di essere un io l'esperienza meditativa che io vi vorrei far fare per cercare di afferrare in voi il vostro io è molto semplice io vorrei che voi cercaste di immaginare di ricordare qual è il vostro primo ricordo cercate di tornare indietro nella vostra biografia e di pensare qual è il ricordo più remoto che avete dentro di voi forse tre quattro anni prima dell'asilo prima delle elementari ecco se voi vi trasferite in quel momento voi potete far caso che la vostra coscienza di allora non è affatto diversa da allora voi se sarete più piccoli sarete più immaturi però il modo di essere presenti non è cambiato se andate a un ricordo delle elementari o delle medie voi vedete il mondo dalla prospettiva di un bambino però in realtà la vostra coscienza la vostra luce della coscienza è uguale se voi correte in mezzo ai vostri ricordi cercate di guardarvi dal di dentro dalla prospettiva di chi guardava le scene voi vedrete che non c'è qualcosa di temporale non c'è qualcosa di voi che è invecchiato in voi c'è qualcosa che è rimasto sempre uguale una luce perenne che si muove dentro la biografia che è arrivata fino a ora e avrà anche oltre questa luce è l'io non ha un nome non ha una forma non ha un corpo quella coscienza che voi avete dal primo ricordo e si collega prima ora è il filo dell'io io vi invito a provare a fare questa esperienza che è un'esperienza molto profonda ecco l'io è lo spirito è la parte eterna perfetta incorruttibile che c'è in noi è anche una particella della coscienza di dio è il principio cosmico individuale l'essere extraterrestre nell'uomo non l'alieno è è la parte divina che proviene dal sole stesso ma attraverso un procedimento che noi chiamiamo la creazione ha fatto in modo di potersi manifestare in tanti corpi diversi quindi ogni uomo è portatore di una traccia divina che vuole fare l'esperienza individuale uno potrebbe dirsi ma tutto sta a confusione perché ma dio non poteva fare il mondo più semplice il mondo è semplice il problema è che siamo noi che siamo complicati siamo tanti quanti sono gli uomini sulla terra tanti quanti sono i problemi che che creiamo che possiamo avere ecco se ci fosse un uomo solo ci sarebbero problemi problema è che finché c'era un uomo solo un adamo potremmo dire non c'era la possibilità di essere coscienti di sé tutto questo smembramento questo frammestamento dello spirito è servito perché l'io dio potesse fare l'esperienza di crearsi un'identità il problema dell'identità è legato alla separazione io posso sapere di me soltanto se mi separo finché sono uno nell'universo e faccio parte del tutto io non posso sapere di me io sono il tutto solo se mi tolgo e vengo buttato fuori da un eden e mi ritrovo sulla terra in un corpo allora posso sapere di me e posso dire io anche se non è un io è un ego so che molti sentono dei capogiri nel senso che sento che sto parlando di cose un po alcoliche però sono cose meravigliose queste che io porto attraverso la lux la conoscenza l'università della conoscenza a voi affinché voi possiate fare un'esperienza cosciente diciamo di questo piano piano nei mesi una volta al mese ci incontreremo per analizzare sempre di più i misteri della vita umana e del cosmo allora adesso io ho ancora qualcosina da dirvi però vorrei anche vedere se c'è qualche domanda fondamentale ecco da parte vostra che sentite che che impelle da un'occhiata è sono tante si io vedo che ci sono tante immagini qua un attimo solo che prova a vedere dunque vediamo se c'è qualche domanda che che ci può ci può anche perché è giusto dare voce voce anche a voi ecco tutti molto gentili che salutate ecco siete anche molto bravi diciamo a ecco qui c'è un utente che dice io ho realtà non posso vedere i nomi e li vedo soltanto utente facebook che non possono me dice mi può chiarire cos'è il corpo astrale il corpo astrale è quel elemento in noi che quando di notte esce ci addormentiamo e è per questo motivo che non ci addormentiamo perché il corpo astrale l'anima esce dal corpo è come la luce si stacca la luce nel corpo e quindi l'uomo dorme fin è l'elemento che ci rende coscienti nel corpo però ci rende coscienti nel sogno infatti i sogni sono dovuti al fatto che il corpo astrale è unito all'io fuori dal corpo quando l'io e il corpo astrale escono si spegne la coscienza il corpo astrale è il responsabile della coscienza nell'uomo andiamo avanti ancora ancora qualche domanda ho letto che trascurano ancora dopo il trapasso durante il quale circuiti elettrici del cervello sono ancora attivi adesso questo è un fatto fisico in realtà non c'è una relazione fra la morte e il cervello in realtà e potremmo dire che smette di esistere l'uomo da un punto di vista fisico ma l'uomo non interrompe mai la sua coscienza cioè continua a vivere in un altro mondo così come quando noi di notte non siamo più nel letto ma siamo in un campo siamo in una cattedrale siamo in un posto che non è fisico uno potrebbe chiedersi ma con quale occhi con quale gambe io vado in quel mondo perché io non lo sto usando i miei occhi non sto usando quelle gambe pure sono in un mondo che assomiglia a questo però il mondo dei sogni ecco già quello è la testimonianza che esiste un mondo nel quale noi siamo provenuti ed è andremo dopo la morte che si chiama il mondo spirituale già il sogno ci dà la possibilità di sapere che esiste uno stato in cui fuori dal corpo perché siamo fuori dal corpo signale dice che quando sogniamo noi siamo fuori dal corpo il corpo è disattivato privato della coscienza quindi del corpo astrale corpo astrale è unito all'io e fa fare queste esperienze a dio ecco ecco qui si parla della connessione dei defunti e qui ne parleremo e quando ci sarà un incontro in cui il terzo qui parleremo proprio della vita e della morte di tutto il processo che l'uomo fa dell'aldilà dal momento della morte e fino alla reincarnazione quindi sarà proprio dedicato soprattutto alla comunicazione anche con i defunti da un punto di vista scientifico spirituale secondo l'orientamento di rudo steiner ecco vediamo un attimo ancora se c'è qualche altra domanda poi facciamo l'ultima parte e qui niente qui si parla di ripassi ecco ecco vediamo no niente no niente io penso che possiamo andare avanti è corretto dire che per provare la nostra essenza dobbiamo lasciare la personalità certo il sacrificio della persona è il ritrovare se poi avete immagine l'immagine di gesù sulla croce che dice dio mio perché mi hai abbandonato questa è l'immagine tipica gesù sulla croce vede il suo spirito di fronte a lui fuori e dice io mio perché mi è abbandonato e l'anima deve morire se vuole risorgere e come adesso è un paradosso esasperato non è che dobbiamo uccidere il corpo per rinascere dobbiamo uccidere l'ego ma neanche uccidere dobbiamo trasformare dobbiamo superarlo dobbiamo smettere di credere di essere quello che non siamo noi siamo di più di quello che siamo molto di più solo che bisogna prendersi in mano e decidersi di sperimentarsi è ovvio che per fare questo qualche sacrificio bisogna farlo ma non è credetemi un sacrificio perché abbandonare le cose che creano dei problemi come l'invidia come la gelosia come l'egoismo l'orgoglio non è per un sacrificio cioè non è che dobbiamo smettere di di mangiare le cose che ci piacciono dobbiamo smettere di fare le cose che sono belle no noi dobbiamo smettere di portare con noi delle cose che sono solo delle zavorre per chiudere l'accesso all'io più ci liberiamo di queste zavorre inutile più l'io si può presentare diamo un attimo ancora niente va bene qui un'ultima domanda dice come possiamo mantenere la presenza della consapevolezza qui e adesso ci sono tanti mediti metodi i buddhisti sono molto bravi a fare questo ecco in realtà si tratta di rallentare i propri movimenti e cercare di portare l'attenzione verso se stessi verso la propria presenza non è facile questo come si può fare per esempio si possono fare delle respirazioni e sentirsi nel respiro oppure molto più semplicemente dicevo uno può rallentare tutti i movimenti e seguire tutti i movimenti in modo di poter essere presente in tutto quello che fa e sentire il corpo sentire che cammina sentire che si la pesantezza sentire l'aria sentire tutto quello che sia essere presenti a se stessi presenza vuol dire sovraintendere ogni momento senza pensare ad altro che non ha quello ricordarsi di 16 va un altro esoterista è portare l'attenzione verso la propria presenza e casomai buddhisti vi potranno dare indicazioni anche in questo però rudolfstein ne dà di altro adesso quando faremo l'ultimo incontro soprattutto parleremo degli esercizi dedicati alla presenza con la meditazione la concentrazione e la contemplazione dunque io vorrei rubarvi a tenervi ancora dieci minuti un quarto d'ora massimo e poi dopo vi lascio andare stasera tra l'altro siamo abbiamo cominciato anche un po in ritardo causa un problema tecnico che adesso abbiamo poi risolto vediamo io questa cosa vuol dire questa solarità estre ed extraterrestrità dell'io il nostro io non è qualcosa che ha a che fare con la terra no è un elemento che fa parte del sole cioè è come se quando noi un defunto passa a miglior vita ed entra nella sfera del kamaloka o purgatorio la supera entra nella sfera che chiamiamo il paradiso viene a conoscere una realtà che ignorava completamente incontra qualcosa che gli assomiglia molto e non è un angelo non è un parente non è un defunto no incontra se stesso gli viene incontro il suo io e gli dice ti abbraccio diventa me raccolgo tutto quello che hai fatto sulla terra e adesso diventa mio io e te diventiamo una cosa sola quel momento in cui ci fondiamo con la nostra vera identità spirituale anche di questo parleremo ecco noi realtà siamo esseri solari veniamo sulla terra per pochissimo tempo ma per secoli stiamo sul sole viviamo come entità fatte di spirito ovviamente non stiamo col corpo perché sennò brucieremo nello spirito si può stare anche nel sole ma siamo esseri che proveniamo dal sole tutte sono tutte cose che mi è difficile dire una leggenda del nome ci dice che noi siamo stati creati perché siamo capaci di dare il nome alle cose sapete che adamo viene posto e affinché dasse un nome a ogni cosa e di da un nome alle giraffe ai rinoceronti alle piante e si dice che è lo in me stesso chiese all'uomo e io uomo qual è il mio nome quindi anche dio ha chiesto di farsi dare un nome questo è molto interessante la necessità che dio abbia bisogno di un nome sapete che il nome vuol dire separare il nome vuol dire identità identificare necessità di identificare qualcosa che nel mondo spirituale non è assolutamente diffusa nel mondo spirituale si è uno non c'è un'identità personale c'è un'identità con il cosmo l'uomo è il missionario colui che è nella missione di portare nel cosmo l'identità il sapere di essere come individuo è qualcosa che dobbiamo approfondire nel futuro noi non siamo destinati a rimanere solo uomini siamo destinati a diventare spiriti a diventare addirittura la decima gerarchia e potremo entrare in questa decima gerarchia soltanto se avremo costituito e trasformato questi tre corpi corpo fisico e telequastrale in tre corpi superiori non potremo diciamo ma uno potrebbe dirsi ma io che ci faccio sulla terra da spirito infatti noi non dovremo operare sulla terra noi qua sulla terra ci siamo per prepararci per un futuro è una scuola una formazione non dobbiamo affezionarci troppo questa è molto bella sia affascinante ma è la nostra scuola noi dobbiamo venire qua soprattutto per edificare dei corpi che noi chiamiamo se spirituale spirito vitale uomo spirito sono scorpi superiori che ci serviranno in un altro mondo perché noi siamo proiettati nei secoli futuri nei millenni in cui noi diventeremo una gerarchia esistono gli angeli gli arcangeli le arca e così via esisterà l'uomo angelo e l'uomo angelo è una gerarchia che si sta formando ha bisogno di sviluppare di fare esperienze per dotarsi di una facoltà che sarà solo sua sarà un essere capace di amare in modo libero l'amore e la libertà saranno le facoltà del futuro uomo angelo e mi rendo conto che queste cose che ci dice la scienza dello spirito non le troviamo da altre parti oppure se le troviamo le troviamo un po confuse molti prendono attingono dalla scienza dello spirito dei concetti per poi farne una propria molte ci sono anche persone che dicono che sono scienze della scienza dello spirito ma non sono antroposofi per essere antroposofi bisogna fare parte della società antroposofica di dorna anche del gheteano basilea svizzera e dopo di che dopo vari anni di studio ci si può in qualche modo e presentare come portatori e portavoci della scienza dello spirito in nome di rudo steiner è qualcosa di personale non è che sia obbligati a fare quello che sto facendo io no io lo faccio perché è una passione non è il mio mestiere questo io lo faccio perché amo e per me grande occasione di nutrimento poter parlare di questo e condividerlo con voi ecco vediamo un attimo cos'è rimasto ecco questi tre spiriti che noi saranno evoluti piano piano ci daranno anche delle capacità superiori noi avremo la capacità di poter avere un senso telepatico di parlare col pensiero di poter sentire cosa vive nell'anima nell'altro e poter saperemo sapere quali sono state tutte le nostre vite passate e quali sono le vite passate di altri quindi si allargerà prospettiva verso un'onniscienza l'uomo è chiamato a anzi potremmo dire che dio ha condiviso l'onniscienza e l'onipotenza col genere umano noi potenzialmente siamo chiamati a diventare dei anche cristo dice voi siete dei e non è una cosa da poco è una cosa che uno si può anche montare la testa è ovvio che ha un suo prezzo e soprattutto bisogna lavorarci a fondo ecco non solo capirlo ecco ecco io le altre cose delle ve le evito e sono già le 11 non voglio protrare ancora ecco ecco una cosa che vi vorrei dare adesso voi casomai potete poi se volete fermare ci sono delle altre cose che io adesso come vi dico sono seminari che durano un giorno interno non riesco a parlare di tutto ecco vedete qua corpo fisico corpo eterico corpo astrale anche io qua con la musica per esempio cerco di simulare questa esperienza in cui il corpo fisico è un intervallo il corpo eterico un'altra sono tutte cose che sarebbe bello fare le faremo perché quando faremo i vari elementi costitutivi nei prossimi incontri faremo anche questo tipo di esperienza quindi vi invito a partecipare a tutti gli incontri ovviamente sono da approfondire non è che possiamo in una lezione aver capito che cos'è l'uomo e c'è infatti un percorso parallelo che io ho creato in cui si possono richiedere i seminari completi che sono una giornata intere voi potete ascoltarli a casa per poter arricchire questo questa lezione questa pillola che stasera vi ho portato ecco in realtà c'è ancora molto tanto da dire ecco vorrei soltanto chiudere la serata e cercando di mettere insieme tutto quello che abbiamo fatto con una preghiera ecco e questa preghiera è la preghiera del padre nostro sì il padre nostro ci è stato dato proprio per cercare di tutelare tutti i nostri elementi allora qui ci sono tante cose vedete c'è da perdersi proprio ecco eccolo qua voi sapete che il padre nostro classicissimo padre nostro che sei nei cieli questa è una modalità di preghiera che sta in quando noi vogliamo proteggere e tutelare il nostro corpo dobbiamo recitare il padre nostro in questo modo dobbiamo dire padre nostro che sei nei cieli visualizziamo un triangolo azzurro e sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà questo nome questo regno questa volontà sono i tre spiriti che noi nel futuro ci faranno diventare dei quindi prima l'uomo chiede al padre che nei cieli di santificare in sé il proprio nome di angelo dell'amore della libertà del regno che opererà come angelo e del fatto che noi saremo allineati alla volontà del creato quindi il nome della gerarchia il regno in cui opererà la gerarchia nel nome della volontà del cosmo però per arrivare a fare questo dobbiamo pregare anche per il volo per quello che è inferiore dacci oggi il nostro e sia fatta scusala così come in cielo sulla terra questa volontà quindi dobbiamo portarla ora questa volontà del futuro sapere che siamo chiamati a essere angeli del futuro e quindi dacci il nostro pane quotidiano immaginiamo in questo caso invece un cubo il pane corpo fisico per dar nutrimento al corpo fisico rimetti a noi i nostri debiti come rimettiamo i nostri debitori qua sono le memorie che sono dentro al nostro corpo eterico vi ho detto che il corpo eterico ha la memoria di tutte le cose che facciamo e quindi anche dei nostri debiti di tutto quello che abbiamo fatto di bene e di male e noi possiamo rimettere qui c'è il discorso del perdono rimettere perdonare nella misura e saremo perdonati nella misura in cui noi perdoniamo non è che ci ci perdonano se noi non perdoniamo dobbiamo essere capaci di perdonare e allora a sua volta ci viene come dato indietro il nostro karma ecco non ci abbandonare nel momento della tentazione e questo è il corpo a stare è il regno dei desideri delle passioni e libera ci dà il male quindi non permettere che il male possa intaccare il nostro io ecco questa preghiera è la preghiera universale una preghiera che fatta in questo modo ci tutela e ci auspica ci proietta verso tutti i nostri elementi interiori qui ci sono c'è un altro elemento che è sempre lo stesso ecco comunque io penso che ci possiamo fermare qui vado a vedere se c'è qualche domanda che mi avete scritto e poi casomai vediamo le passioni sono un ostacolo la ricerca della conoscenza le passioni sono lievito nel senso che bisogna che ci siano anche le passioni però come io spesso dico e non esiste il peccato cioè diciamo che il peccato è ripetere lo stesso errore ma si può anche fare lo stesso errore più volte l'importante non farlo nello stesso modo perché se non sbagliamo noi non impariamo cioè non possiamo pensare che la dobbiamo toglierci le passioni le passioni vanno superate noi dobbiamo stancarci di una cosa dobbiamo dire non ho più necessità non ho più necessità di festeggiare il capodanno fino alle 4 del mattino come quando avevo vent'anni chi lo fa ancora c'è qualcosa che non va c'è le cose che facevamo una volta non possono andare più bene il superamento è naturale anche riguardo all'alimentazione non è che bisogna smettere di mangiare la carne no bisogna arrivare a un punto in cui uno ne sente più bisogno e questo anche su altre cose su cose che adesso sono molto piacevoli ma non è che si smette di farle perché si trova sì ci si impone di farlo no perché si trova qualcosa di migliore per esempio anche nel riguardo la sessualità non è che si deve smettere di fare sesso no ci si accorge che esiste un modo di fare sesso che è molto più interessante è molto più bello che non quello fisico adesso ne parleremo quando faremo un incontro sulla sessualità però ci sono tante cose che sono molto meglio di quello che si può fare col corpo però è ovviamente col corpo è più facile per fare le altre ci vuole un piccolo sforzo ecco come possiamo mantenere questo l'abbiamo già detto e qui qui ci sono degli elementi che parlano della vita dopo la morte che vorrei prendere prendere in esame in altri momenti qui ci viene chiesto dove vengono i sogni premonitori anche questo è un ambito che ha a che fare con il sogno sogni premonitori noi quando sogniamo i nostri sogni non sono mai di una categoria noi possiamo sognare i nostri processi corporei la nostra salute i nostri malumori i nostri ricordi ma possiamo anche avere delle preveggenze del futuro noi possiamo anche incontrare un defunto possiamo incontrare un angelo il sogno nella maggior parte nell'ottanta per cento dei casi sono processi fisiologici e animici il 20 per cento sono percezioni extrasensoriali perché noi siamo fuori dal corpo quindi abbiamo anche la possibilità di avere queste esperienze qui racconti qui sono tanti racconti che sono interessanti ecco tutti i racconti quando si comincia a parlare di sogno ovviamente qui si parla in questo momento storico buio lei è una luce no non sono una luce sono soltanto una candela proprio è anche vero che però la candela se uno attinge dalla candela accende tante altre candela ecco la mia funzione sarebbe bello se fosse così della mia piccola luce poter fare accendere le luci di tutti e fare in modo che questa luce poi vada a incendiare d'amore il mondo perché si può basta una fiamma per incendiare d'amore il mondo così come basta un fiammifero per incendiare un bosco per incendiare d'amore il mondo basta che uno incendi un altro e si innesca un incendio d'amore mondiale se vogliamo provarci può darsi che con la conoscenza ci riusciamo perché oggi si può diventare fratelli e ricreare una fraternità non più attraverso una fede la fede purtroppo non ci supporta più non riusciamo più a sentirla autorevole non perché non abbia senso ha avuto un ruolo importante ma adesso l'uomo non gli basta più la fede l'uomo vuole conoscere e capire cioè non ci devono essere dogmi cioè misteri finiscono di essere misteri quando vengono compresi non esiste il mistero il mistero è qualcosa che è nascosto ma quando viene svelato mistero non è più mistero e credetemi 11 ci sono cose che non possiamo comprendere ci sono cose che non possiamo sperimentare quello sì ma comprendere spesso e soltanto una questione di dedizione di volontà e di tempo quando uno fa una domanda del tipo menato prima l'uovo e la gallina non è che non si può rispondere a questa domanda per rispondere a questa domanda ci vogliono otto mesi e noi lo stiamo facendo potremmo dire che oggi abbiamo posto la domanda e no è nato prima l'uovo e o la gallina vedrete che quando ci troveremo a luglio noi avremo dato una risposta va bene io penso che possiamo fermarci qua guardavo se c'era qualche altra io vedo che molti sono interessati all'elemento della morte quindi vedo molti commenti legati ovviamente al sonno la morte ecco anche perché questo gruppo spesso si parla di queste tematiche legate appunto alla vita nell'aldilà ecco ripeto ne parleremo il terzo incontro parlerà soprattutto di questo quindi prenotatevi sarà quello di marzo penso perché parleremo di quello che steiner dice riguardo la comunicazione dei defunti ecco io devo fare un percorso e stasera ho illustrato un po come l'uomo ha costituito corpo anima e spirit egoità individualità ecco ecco vediamo un attimo perché alcune persone viene all'iniziativa anima angelica adesso questa domanda ci sono persone che sono più elevate di altre persone che hanno fatto un cammino più di altre persone che sono sulla terra da più tempo ecco una domanda nella vita reale è possibile che attraverso la concentrazione separare il corpo la materia arrivare al mondo spirituale certamente soltanto che questo non deve essere fatto in modo artificiale deve essere fatto attraverso un'autorizzazione del mondo spirituale stesso la scienza dello spirito non insegna nulla che non sia già nelle anime delle persone e non da nessun tipo di indicazioni artificiali per cui non si arriva per via naturale entrare nel mondo spirituale cioè l'uomo deve spingersi fino a un certo limite ma non può andare oltre certi limiti quando arriva a quel limite se gli è dato di sorpassarlo è il mondo spirituale che apre la porta non dobbiamo sfondare delle porte non dobbiamo assumere delle droghe non dobbiamo acquisire degli stati inferiori di sostanze oppure in modo che ci non noi perdiamo la coscienza cioè la coscienza deve essere sempre conservata noi non possiamo perdere la coscienza se siamo scienziati dello spirito lo scienziato non può essere un individuo schizofrenico o che perde la coscienza deve essere lucido davanti all'esperimento ricordate che la scienza dello spirito pretende di avere la stessa precisione lo stesso atteggiamento che lo scienziato nel laboratorio ha davanti alle indagini nel mondo spirituale è ovvio che per fare questo tipo di lavori bisogna essere diventare alchimisti potremmo dire o meglio scienziati dello spirito essere capaci di produrre dentro di noi un laboratorio in grado di poter prodursi di organi in grado di osservare i fenomeni sovrasensibili e noi lo faremo soltanto che non si può dare un'indicazione dire fai così no perché uno può fare così soltanto se ha sviluppato un certo livello di conoscenza che lo intoni e gli dia la possibilità di dotarli di tali forze in grado di accendere lui i centri spirituali cioè l'iniziazione che è la capacità di vedere nel mondo spirituale deve essere un fenomeno naturale naturale nel senso che deve essere concesso dal mondo spirituale la possibilità di penetrare appunto nell'aldilà l'iniziazione è una morte in vita è sperimentare gustare la vita in morte chi vuole fare questo questa indagine senza perdere se stesso senza perdere la propria dignità la propria responsabilità di essere umano ha trovato l'incontro giusto la scienza dello spirito è una scienza che ci vuole dotare di piena coscienza nell'indagine dei mondi superiori ecco qui viene detto ci sono già uomini con queste facoltà sviluppate ci sono uomini che vengono al mondo già con delle facoltà perché le hanno sviluppate in vite precedenti ci sono individui che le sviluppano adesso gli individui che hanno queste facoltà non sono quelli che dicono di averle no perché colui che dice di avere delle facoltà non ce le ha oppure se ce le ha le ha in modo limitato non crediate che un chiaroveggente veda tutto ci sono tanti chiaroveggenti ma vedono quello che possono vedere e quello che vedono corrisponde al grado di moralità di eticità che sia in sé mondo spirituale non è un mondo in cui si va in giro e si fanno delle indagini come se si andasse in un parco e si guarda cosa c'è in giro no il mondo spirituale assume appare secondo quelle forme che il chiaroveggente da lui stesso cioè se io sono un iniziato di un livello basso per esempio io vedrò soltanto quel mondo che è il mio livello quindi vedrò dei demoni dirò che ho visto gli angeli ma incontrato dei demoni se sono un chiaroveggente di un livello più alto vedrò un mondo mentale in cui mi appariranno entità per esempio legate alla sfera di mercurio di venere del sole se sono iniziato ancora più alto andrò addirittura oltre saturno quindi mi appariranno gerarchie ancora più elevate quindi quando parliamo con un chiaroveggente dobbiamo dovremmo cercare di capire la sua moralità perché com'è nella vita se è una persona seria una persona precisa una persona corretta una persona eticamente spiritualmente devota allora vede qualcosa di elevato ma se nella vita è un dissoluto è una persona che non dà credito che non dà parole non è credibile vedrà sicuramente il mondo spirituale ma vedrà un mondo basso ecco per poter concludi per poter accedere a questi seminari che vi ho detto che vanno come a completare questo lavoro che facciamo si tratta di richiederli attraverso il sito unicornos io ho un sito che si chiama unicornos.com dove ci sono tanti materiali qui c'è anche questo percorso diciamo legato ovviamente come vedete abbiamo detto tante cose ma non siamo riusciti a approfondirle io vi invito piano piano a farlo ecco io penso che possiamo salutarci guardavo un attimo che cosa è rimasto nella vita reale è possibile attraverso questo l'abbiamo già detto no io penso sono tante domande ecco che io spero di poter e di cioè è ovvio che se fossimo di persona sarebbe molto migliore è molto è molto più auspicabile ecco vi arriverebbe anche qualcosa di più concreto ecco niente io vado un attimo uno scorro un attimo negli ultimi scusate se vi intrattengo cosa vuol dire che un'anima è nata prima a un'anima è nata prima intendo è un'anima che ha avuto più incarnazioni cioè è venuta sulla terra più volte ci sono anime giovani che sono anime che si sono incarnate meno volte per esempio dieci volte anime che sono sulla terra da 30 vite voi direte mamma mia ma com'è possibile venire 30 volte sulla terra non ci ricordiamo nulla è perché ogni volta noi ricreiamo a nuovo questi corpi e in questi corpi non c'è memoria di nulla ci sono le facoltà delle altre vite che possiamo portare questi ci danno esperienza ci danno saggezza se le portiamo da altre vite e più ci siamo venuti sulla terra e più abbiamo vissuto in senso etico morale e più siamo esseri evoluti ecco dunque vediamo un attimo va bene purtroppo non riesco spero che vi sia piaciuto che abbiate avuto una una buona esperienza che qualcosa si sia chiarito o perlomeno che qualcosa in voi si sia acceso ricordatevi sempre che io vi voglio indirizzare la lettura di testi di steiner sono difficili certo non sono dei testi new age no sono testi che chiedono una volontà i testi sono la scienza occulta teosofia l'iniziazione e filosofia della libertà se voi andate su questo sito che io ho creato apposto per la divulgazione dell'antroposofia che si chiama unicornos punto com li troverete tantissimi contenuti casomai metterò nel link ma voi penso che chi mi segue lo conosca già ecco li potete trovare tanto materiale ecco io vi ringrazio ringrazio soprattutto focus ringrazio la carissima anna tamburini che è la creatrice dell'università lux della dell'università della conoscenza che mi ha dato questa mi ha conferito questa docenza all'interno appunto dell'università che io faccio molto volentieri perché è un grandissimo nutrimento per me e vi invito al prossimo incontro vi ringrazio per essere stati presenti per per avere in qualche modo come ha avuto tanta pazienza di avere sopportato i miei balbettiche e soprattutto scusatemi per ritardo stasera perché qualcosa non è andato e quindi è partito un po in ritardo io vi saluto e e vi do l'appuntamento alla prossima settimana grazie ancora e a presto arrivederci grazie a tutti